E' importante l'abbattimento delle barriere architettoniche, sicuramente su questa città deve fare ancora molto. E' importante l'abbattimento delle barriere culturali, stiamo lavorando da tempo sull'integrazione e l'inclusione sociale. La coesione sociale è un aspetto che ci interessa veramente tanto, è una delle priorità di questo assessorato. Quindi sarete presenti domenica, il Comune di Rieta ha dato il patrocinio. Che cosa dire? Grazie al Comune per questa sua sensibilità. Grazie a voi, grazie a tutti coloro che hanno aderito a questa proposta di Mariano Gatti. Noi l'abbiamo accolta perché rientra nel programma di questa amministrazione. Crediamo sia importante rendere visibili quali possano essere le difficoltà che incontra un cittadino che può avere delle difficoltà di qualsiasi tipo. Quindi non penso soltanto ai portatori di handicap, ma penso agli anziani, penso ai bambini, penso alle donne in stato di gravidanza. Quindi costruire una città su misura di tutti, questo è il nostro obiettivo.